Eh sì ragazzi, io di passioni ne ho tante, anche troppe, e vado in difficoltà innanzitutto per trovare il tempo da dedicare a ciascuna di queste passioni, ma vado in difficoltà quando qualcuno mi chiede, C'è Luca, potresti definirti con una parola che finisce conista? Quale potrei scegliere? Beh, innanzitutto, batterista. Oppure anche, beh sì, iconista. Ma indubbiamente ragazzi, sono anche un guzzista! Quest'anno ragazzi, effettivamente, due ricorrenze da celebrare. I 20 anni da iconista che vi ho già raccontato nel video che vi lascio qui sopra, e per l'appunto i 20 anni da guzzista. E voi direte, ma cosa c'è da celebrare nell'avere la stessa moto per 20 anni? Lo so, compagni di smutazzate che cambiano moto ogni 2-3 anni, però no, io no, per me la mia moto Guzzi California deve restare con me perché rappresenta il vero senso della passione. Per raccontarvi come è andata questa passione, deve innanzitutto parlarvi di mia madre. Ve la mostro in questa foto qui accanto del suo compleanno, mi raccomando ragazzi, seguitemi su Instagram come geluca.bocci. A vederla sembra una donna dolce e affettuosa, e lo è, giustamente, come tutte le mamme, ma anche una donna di quelle davvero toste. Vi racconto questo aneddoto. Ha insegnato italiano e latino al liceo classico di Tolentino della mia città. Quando la cercavi a scuola non deve andare dai videlli e chiedere, scusa, in quale aula si trova mia madre? Era molto più semplice. Bastava passare appunto lungo i corridoi e cercare l'unica aula in cui c'era un religioso silenzio. Con la professoressa Bocci non si scherzava. Tutti la rispettavano e tutti l'amavano al tempo stesso. E mio padre, giustamente, non faceva eccezione. Così quando mia madre gli chiese di vendersi la sua Moto Guzzi perché aveva paura che io l'avrei voluta guidare, lui non battecì io. Aveva una splendida, una meravigliosa Le Mans 3 rossa su cui io, per l'appunto, sbavavo da sempre. Così, però, anche senza una Guzzi in casa, io mi appassionai ugualmente di moto, in particolare delle moto custom. Quindi mi sognano rivolti alla Moto Guzzi California. Già lavoravo, avevo già la patente, avevo già anche i soldi per comprarla, ma mia madre, ovviamente, non era d'accordo. Quindi sono partiti sette anni, non scherzo, sette anni di discussioni. Tranquilli, queste discussioni si sono però concluse con un lieto fine. E infatti è arrivato il momento di presentarvela. Ed eccola qui la mia signorina, appena compiuto venti anni, almeno venti anni, nelle mie mani, ma la realtà del 1999. Una California Jekyll, nel 1999 era il modello, diciamo, basse, semplice, semplice, con pochissime cose. Ma io, per l'appunto, l'ho customizzata in maniera pesante. Che lei, di per sé pesante. 1084 cm3, il tipico bicilindrico AV di casa, Guzzi, e lui pesa, se cosa sbaglio, 240 kg. Ci metti un po' di olio, un po' di carburante, le borse. Io che peso più di 70 kg, insomma, è un vero macigno. Cosa ho fatto per customizzarla? Innanzitutto, qui davanti c'era il manubrio, quello a corna di bue. Io l'ho modificato con un più moderno e stretto manubrio della Rizoma, quindi derivato da un Monster, con manopole sportive, giustamente anche gli antivibrazioni e gli specchietti. E il cupolino, che è uno spettacolo in carbonio della V11 della Moto Guzzi. Da un'altra Moto Guzzi, la Bellagio, deriva il parafango anteriore, che era piccolino, quello invece che c'era prima, erano quelli con lo sbaffo dietro, molto da custom, e ho raddoppiato i freni a disco. Brembo serie oro, dovrebbe essere da 32 cm, se non mi ricordo male. Ho anche alcuni dettagli, come questi qui, stiamo per evitare che le doppie forcelle, gli steli, si vadano a rovinare. Freccia a goccia, più piccoline. Poi la sella, qui la sella era in due pezzi staccabili, per chi voleva fare il singolo, ci ho messo l'unica sella lunga che deriva dalla Stone. E questo, ragazzi, è un pezzo molto particolare. Questo qui, infatti, vede qui lo stemma Moto Guzzi, ma qui davanti, un po' difficilino, onestamente, da vedere, c'è lo stemma della poltrona Frau. A Torrentino, la mia città, c'è questa azienda che produce da sempre poltrone bellissime, pelle per macchine sportive tipo Ferrari, oppure anche i divani per i teatri più famosi del mondo. E per gli 80 anni della Moto Guzzi fecero queste borse dedicate alla California, ma non questa, alle V80, ma a quei tempi ero fidanzata una ragazza il cui padre lavorava alla Frau e questi erano degli scarti buttati via. Con un mio amico, Augusto, ho fatto adattare degli attacchi differenti ed eccole qui sulle mie moto, dove stanno benissimo. Grande Augusto, poi questo ragazzo, insomma, ormai un ragazzone, che mi ha aiutato ad adattarli e poi è diventato uno dei miei allevi di atrofografia. Poi l'intra, vedete, ammortizzatori bitubo. Queste non erano di serie e le hanno ressa più comoda, ma anche più adatta per l'uso sportivo. E qua dietro davvero alcuni pezzi particolari. Questo gruppo qui, della targa, con le luci cazzaie, quindi a occhio di gatto e sempre le frecce piccole, è un pezzo della rosso puro della Firestarter Grage di Filippo Barbacane, quello che faceva insieme a Ringo DJ il programma Lord of Bike. Tanta roba e qualcosina di particolare c'è anche sulla parte meccanica. Allora, innanzitutto, ho detto, queste qui sono la pompa freno per un doppio disco della Brembo, ma anche la frizione è idraulica. È di serie? No, non è idraulica. Ce l'ho messo io. E la pompa frizione, che troviamo qui, è comunque stata progettata da scola. Poi questa si è rotta, l'ho cambiata. È sempre di scola dentro, c'è un albero a camme in modo che possa erogare meglio la sua potenza. Sì, ragazzi, vi ho narrato tutti i lavori fatti qui dentro che ci stanno davvero tanti. Sì, qualche segno, le vedete qui, di ruggine c'è per i suoi 20 anni. Lo sto restaurando pian pianino, quindi cerco di mantenere i suoi 20, anzi, dicevamo, 23 anni 99-2022 in modo che li porti nel modo migliore possibile. Però ragazzi, che dite? Non è uno spettacolo? Ebbè, ma se non è bella quella moto lì, quale altra moto vuoi che sia bella? Milf? Italiana? All black? Cosa vuoi di più dalla vita? Gran mezzo? Grande Toto! Vi lascio il suo canale qui sopra che la definisce addirittura una milfona. Tra le modifiche mi sono dimenticato di citare l'incrocio libero degli scarichi. Fidatevi che spingeva forte. Pensate alla portata in pista un paio di volte. Sì, questa la foto era fatta un giornalista di motociclismo. E sono sicuro che in questa foto sfocata, vedete il tizio con il ninja? Lui, secondo me, ha ancora gli incubi. Non riusciva a sorpassarmi sulle curve, ovviamente, perché poi, quando sei arrivato sul rettilineo, mi ha sverniciato di brutto. Comunque, molti dicono, guzzi, educati, sono soldi buttati. Per via dei problemi meccanici. Io, invece, non ne ho mai avuti. Sicuramente tutto merito di Roberto Freddi dello storico concessionario Moretti che ha effettuato tutte le modifiche che avete appena visto. Modifiche senza fine. Eh, vi mostro le ultime. Eh sì, la mia guzzi l'ho accessoriata ben bene. Tipo il doppio strumento. Sicuramente c'era soltanto il contechilometri, ma ci ho messo anche il contaciti. Chi mi sta dando problemi, dovrò cambiarlo, ma per me è un continuo work in progress questa moto. C'è anche l'aggancio, la presa e ricarica tipo accende sigari, non perché io fumo, ma perché mi serve per mettere in carica e amare il cellulare quando utilizzo come un navigatore sui viaggi più lunghi. E l'ultimo accessorio è questo. Questo braccio che seguiamo, seguiamo, è sì, la Ista 360 One X2, ma completa di tutto. Questo è il kit di accessori, poi vi ho sempre tutti i link sotto in descrizione per montarlo sulla moto, il selfie stick invisibile e l'accessorio per assorbire le vibrazioni, che utilizzando un bicilindrico massiccio e che vibra un bel po', ricordiamo che questo ha il cardano come trasmissione e quindi per esempio da fermo c'è la famosissima coppia di rovesciamento. Ebbè, questo gigino qui, le vibrazioni le assorbe e poi il selfie stick permette di fare questo su e su e su e su verso le stelle e oltre. E quindi delle riprese fighissime che adesso magari vi mostro. Attenzione che le ho montato lo smorzatore di vibrazioni, questo agg qui, nella posizione sbagliata, perché va messo non sopra ma sotto il selfie stick. Così il selfie stick della One X2 diventa invisibile. Un accessorio più utilissimo è l'adattatore per il microfono. Questo è gigino qui con il quale addirittura posso anche cantare mentre guido. Com'è bello andare in giro con una guzzi sotto le chiappe se mi becca Cremonini mi fa il sedere Ok, sì, come cantante faccio pena come motociclista ma appena dignitoso. Nulla di più e nulla di meno. Con queste riprese vi sto mostrando il piacere di stare in moto. Io detesto guidare l'automobile se posso prendo sempre mezzi pubblici quando viaggio ma in moto sulla mia moto è tutto diverso. E puoi sentirti un certo senso come un'aquila. e sto per acciaccare un uccellino che animale era? Pennuto a parte in moto puoi rallentare puoi vivere tutto con il tuo ritmo puoi fare anche la guida turistica. Questa è la piazza della libertà di Torentino e questa è la torre dell'orologio del Torentino per colpa sua le persone di Torentino vengono definite le mezze facce dei Torenti. Questo perché nell'orologio ci sono le fasi solari che sono rimaste bloccate per decenni sulla mezza luna e quindi dicono che quelli di Torentino sono delle mezze facce ovvero pensano una cosa e ne dicono e ne fanno un'altra non posso fare soltanto che negare assolutamente almeno nel mio caso. Questo invece è il ponte del diavolo di Torentino uno dei tanti ponti del diavolo ci sono in Italia ognuno con la sua leggenda. Quella leggenda è che non riuscivano a costruirlo e quindi chissero aiuto niente proprio di meno che al diavolo e il diavolo gli disse va bene io vi aiuto ma la prima anima che passerà per quel ponte sarà mia. Loro accettarono così il ponte fu pronto in un istante ma poi andarono subito a piangere dopo a piangere da San Nicola il solito santo il quale prese e disse facciamo così ve lo risolvo io prese una forma di formaggio la lanciò sul ponte e un cane gli corse dietro così il diavolo come prima anima non si prese quella di un cristiano ma quella di un povero cagnolino alla facciaccia degli animalisti. Se vi stanno piacendo le riprese con la One X2 vi ricordo che trovate il link qui sotto in descrizione con cui potete portarvela a casa spendendo 50 euro in meno e anche con il kit di accessori per fissarla in moto in omaggio. Ma a questo punto vi chiederete qual è il senso di questo video? Innanzitutto raccontarvi un'enorme fetta della mia vita su questa moto ho viaggiato conosciuto persone ho vissuto emozioni pensate che i miei primi passi da blog rio fatti proprio scrivendo sulle pagine di Aonegozista ma soprattutto su questa moto ho imparato quando sia importante credere in quello che si ama convincendo mia madre innanzitutto e continuare ad amare quello che si ama si lo so ragazzi tendo a finire i miei video in modo mieloso ma lasciatemi dire quest'ultimo concetto man mano che passano gli anni i problemi aumentano lavoro famiglia mettiamoci pure il terremoto la pandemia la guerra si ci sono cadute addosso tante cose in questi ultimi anni ecco che trovare il tempo da dedicare alle nostre passioni è sempre più difficile ma dobbiamo trovarlo quel tempo perché quel tempo dà il senso alla nostra vita senza quel tempo saremmo solo macchinette dedicate a produrre e a consumare mentre le passioni ci arricchiscono e arricchiscono anche chi sta vicino a noi in certo senso come benzinai a cui regalo non so quanti centinaia euro all'anno per poter viaggiare in sella alla mia moto wuzzi battuta parte finale vi auguro davvero ragazzi con tutto il mio cuore di potervi dedicare alle vostre passioni il più possibile qualunque giustamente esse siano a presto ragazzi al prossimo video a presto Grazie a tutti.